Scriviti al nostro canale Bello il pallone per Nikolic Bello l'appoggio al bello di Nikolic Amorossa per Passore Nikolic attacca uno contro uno Questo movimento da categoria superiore Trappa di dentro, non va ancora Il balzo di Nikolic Nikolic A segno ancora Per Nikolic Ad attaccare Wiltshire Usare la mano sinistra Ad andare a segno A mostrare i muscoli A subire falli E ad andare in lunetta Con il tiro libero aggiuntivo A presto A presto A presto Dopo due errori di passi Nikolic va a conquistarsi Un pallo sotto canestro A presto A presto A presto A presto A presto 27 29 punti di Nikolet